È successo tutto in fretta perché era l'ultima partita che ho fatto con la Spal, cioè a Bari il 29. È successo tutto questo col Pescara il 30, diciamo, il 30 pomeriggio. È arrivata una chiamata e io non ho esitato ad accettare. Ho accettato subito perché nella Serie A uno, poi anche se magari in questo momento la squadra, noi siamo in difficoltà a livello di classifica, comunque penso che sia un'opportunità importante e sono venuto qua con l'intento comunque di far bene e di salvarci sicuramente. Io mi alleno sempre al 100% e cerco di dare tutto a me stesso sia in partita che in allenamento. Poi le decisioni stanno agli allenatori e io le rispetto, però della concorrenza so che c'è, aiuta la concorrenza, anzi è stimolante, però non ho paura. Prima pensione è ottimo, è un gruppo bellissimo, siamo concentrati, carichi per finire il girone di andate e fare un grande girone di ritorno. Io ho parlato con il direttore Leone che ho avuto a Lanciano, però poi penso che ci sia anche stato l'ok del mister Oddo e quindi insomma erano consapevoli di chi avrebbero preso. E' una mia seconda casa, infatti per questo sono molto contento. Sì, diciamo che può sembrare un segno del destino che debuttai contro appunto il Pescara, se non sbaglio sia io che di Francesco Federico. Un bel momento, adesso pensiamo a far bene. Le responsabilità sono belle, quando danno delle responsabilità a una persona penso che bisogna essere contenti. Sicuramente è una grossa responsabilità, però non ci penso più di tanto, penso a far bene per la squadra, per il gruppo, per me stesso e basta. Poi se questo va bene, meglio. Il numero di maglia ho scelto il numero 20, che fu la prima maglia con cui debuttai a Parma proprio contro il Pescara. Era libera, quindi mi sono buttato sulla 20. Poi mi ispiro, no, cerco di guardare tutti i più grandi giocatori di Serie A, insomma internazionali anche. Quindi non ho un modello proprio a cui mi ispiro, cerco di raccogliere il meglio di tutti i grandi campioni.